Ora vi narrerò una storia, una terribile storia. Insuriosi, in un turbine potente ed inarrestabile, l'uno dietro l'altro, tranne due. Un turbine potente ed inarrestabile, l'un delivering potente ed inàng ad un bridge, usbiv. Ehi pallando, persona palliata Ehi pallando, persona palliata Ehi pallando, persona palliata Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Era ormai il tempo della luce Sì, era il tempo delle stelle Le stelle Intranno a ritrovare nel chiaro, nel chiaro banco E senza e senza una Avera il tuo riposo Salimmo su E il primo e il tuo secondo Entranno a ritornar Nel chiaro del chiaro mondo E senza e senza una Avera il tuo riposo E il tuo primo e il tuo secondo Io primo e il tuo primo e il tuo secondo Quanto occhio vidi Toglio delle belle cose E il tuo primo e il tuo primo e il tuo secondo E quindi riuscimmo A rime delle stelle E quindi riuscimmo Grazie a tutti. Grazie a tutti.